Sono terminati i lavori al nuovo bocciodromo. Per l'inaugurazione ufficiale e l'apertura al pubblico sarà necessario attendere un allentamento delle restrizioni ad oggi in vigore per limitare la diffusione del covid. Nel frattempo però sono stati presentati i risultati degli importanti lavori di riqualificazione messi in atto. Il nuovo bocciodromo è formato da due strutture, il fabbricato principale, destinato alle attività sportive, e da una parte più bassa che accoglierà al suo interno le attività collaterali del centro sportivo. L'edificio si sviluppa su un unico livello composto da quattro aree diverse. La zona gioco, quella riservata agli atleti, l'area ricreativa che comprende il bar con annessa cucina, dispensa e servizi igienici, e infine la zona polivalente, nella quale saranno sistemati biliardi e una sala da gioco. I lavori sono finiti, da ora in poi è la fase dell'allestimento, della parte del bar, della parte del gioco delle bocce, con tutti gli arredi. Quindi ci tenevamo a ufficializzare questo momento alla città. Questo luogo, come avete visto, negli anni ha cambiato forma, ha cambiato veste e quindi sarà nei prossimi anni sicuramente un luogo molto frequentato, vissuto e vivo da tanti cittadini. Qui di fianco abbiamo la pista da pantrek, la pista da skate e quindi diciamo sarà un complesso sportivo interessante. Per quel che riguarda il bocciodromo avremo anche il privilegio di avere la sede della federazione provinciale, così ci sarà la possibilità anche di ospitare tante competizioni. L'augurio è di lavorare sempre di più con questa struttura, anche con le scuole e di ospitare competizioni di carattere nazionale. Dopo tanti anni, finalmente, il territorio di Pesero, la FIB di Pesero, può godere di questo nuovo impianto, a cui noi tenevamo molto, insieme alla società che si trasferirà qui, che lo gestirà. E quindi noi confidiamo molto in questo impianto nuovo, che sia un centro di, oltre che di attività agonistica per la FIB, ma anche di aggregazione sociale, perché lo spazio ce n'è tanto e si presta molto anche ad attività di ludico, anche di socializzazione. Quindi per noi è un punto di riferimento. Noi come FIB cercheremo di organizzarsi anche degli eventi di carattere nazionale, perché, come dicevo, l'impianto si presta e quindi per noi è una notevole soddisfazione di poter usufruire di questo lavoro che il Comune ha messo in piedi per poter realizzare tutta questa struttura. Questo è un intervento che rientrava all'interno del progetto Bando delle Periferie, che ci ha permesso, grazie alla cifra che il Comune è impegnato per la realizzazione di questo bocciodromo, di aggiudicarci un bando nazionale molto importante di 11 milioni e 2, che ci porterà a riqualificare tutta questa zona, che era una delle zone degradate della città. Vorrei ricordare che questo è un impianto di Valenza nazionale, quindi un impianto nazionale con quattro piste e ha una struttura tale che potrà essere anche rimodulato e metterci una pavimentazione sopra e potrà diventare anche un impianto per altre discipline sportive e accoglierà appunto un'area destinata al biliardo. C'è una bellissima tradizione a Concordia per il gioco del biliardo e l'area bar di oltre 200 metri quadri sarà a disposizione oltre ovviamente dell'impianto sportivo e del campo di voce anche di tutta l'area qui intorno. Quindi diventa una struttura sportiva, una struttura di servizio e una risposta importante che si vuole dare alla città. Nonostante le numerose critiche che si sono mosse, sembra che il bocciodromo fosse un modo per buttare via soldi pubblici, invece è diventata un'operazione per recuperare grandi risorse. A fronte di un investimento del comune di circa 1.700.000 euro ci siamo aggiudicati, ripeto, un bando nazionale di 11.200.000 e siamo particolarmente orgogliosi del risultato che siamo riusciti ad ottenere.